e adesso vi parliamo di gemma galgani ossia la dama del trono o var di uomini e donne di maria de filippi ve ne parliamo in quanto se tanto mi da tanto anche questa volta per la corteggiatrice del trono o var di uomini e donne sembra che la storia d'amore sia giunta al capolinea sicuramente ricorderete che gemma galgani prima di leonardo aveva provato a cercare l'amore con costabile arbore ma le cose fra di loro erano veramente andate molto male e oggettivamente per come era cominciata fra di loro la storia d'amore sembrava che con leonardo le cose potessero prendere una piega differente vi diciamo questo in quanto la stessa gemma galgani ha scritto un post su instagram nel quale si capisce che le cose fra di loro stanno andando molto male come peggio non si potrebbe scrive gemma galgani sulla sua storia d'amore a uomini e donne auguro a tutti di trovare un bravo calzolaio del cuore che sappia aggiustare riparare le ferite ma soprattutto conclude la stessa gemma galgani scrivendo che riesca a fare trovare l'amore con il filo giusto beh non so come la leggiate voi ma a me sembra davvero che sia successo qualcosa di molto grave che non è riuscita a mandare giù conoscendo un po gemma negli anni e vedendo insomma la facilità con la quale non riesce a mettersi dietro le spalle le cose non è nemmeno detto che si tratti di una cosa gravissima ma insomma è certo che veramente ci sia qualcosa che non sia andata per il verso giusto stiamo a vedere a questo punto come evolverà la situazione comunque la trasmissione ricomincerà il 10 gennaio se ci saranno delle novità ovviamente ve ne daremo preventivamente conto aggiornandovi sulle novità che sono successe al momento è ovvio da queste parole vi diamo la notizia di una probabile ennesima crisi per la dama di uomini e donne grazie 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 grazie